Io volevo come moderator di questa tavola rotonda non chiedere ai partecipanti tanto di commentare ulteriormente i dati, ma di prendere sul serio il titolo del convegno, quali sfide e quali opportunità per il Paese e quindi invitarli a interrogarsi su come l'universo del non profit, può contribuire ancora di più di quanto già non faccia alla crescita economica e sociale del Paese, alla coesione sociale, ma anche alla trasformazione e all'incremento dei servizi di welfare, a partire dalle loro posizioni che sono tutte posizioni in fondo di soggetti di policy, che o sono tuttora soggetti di policy o lo sono stati negli ultimi anni, come nel caso di Stefano Zamagni, oppure che sono soggetti di policy dentro lo stesso terzo settore, come Pietro Barbieri. Quindi vorrei guardare più al futuro che non al passato, ovviamente tenendo presente quello che è stato fatto in questi anni. L'unica domanda che in qualche modo implica un minimo di commento ai dati è quella che faccio a Pietro Barbieri, con cui vorrei cominciare, in quanto presidente del forum del terzo settore, gli chiederei dal suo osservatorio quali sono, secondo lui, i punti di forza e di debolezza, dal suo osservatorio tenendo conto dei dati oggi presentati, che lui ha visto anche perché ha partecipato alle diverse riunioni preparatorie di questo convegno. Quali sono i punti di forza e di debolezza del settore non profit italiano e quali eventualmente le misure più urgenti, che poi colleghiamo con gli altri interventi, necessarie per il suo rafforzamento, sia a livello nazionale che a livello europeo. Pregherei di stare nei 5-6 minuti, così riesco a fare due domande a ciascuno di voi. Prego. Sì, anzitutto grazie, grazie per questa opportunità, perché ci dà l'occasione per fare una riflessione, credo ampia, sui temi del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e della cooperazione sociale in questo Paese. Credo che lo sforzo che ha fatto l'Istat, di fare questo censimento, ci dia un'occasione straordinaria per conoscere le realtà del terzo settore italiano e quindi qual è il loro profilo e quali sono poi inevitabilmente le questioni da dover affrontare. Sui punti di forza è evidente che emerge un grande radicamento sul territorio delle organizzazioni di terzo settore, dal volontariato all'associazionismo alla cooperazione sociale. Una diffusione che è un valore in sé, il numero di organizzazioni per ogni area territoriale è davvero importante. C'è un altro indicatore, credo che sia un punto di forza, che è la partecipazione sociale, quindi cittadini attivi che si organizzano, che si impegnano nella quotidianità e si organizzano. Per fare cosa? Fare azioni di advocacy, tipicamente quello di fare il watchdog, il cane da guardia delle istituzioni, del loro funzionamento, della loro capacità di saper dare adeguate risposte ai bisogni dei cittadini, ai bisogni in termini di politiche sociali, di percorsi di welfare, piuttosto che di educazione e cultura per tutti, piuttosto che di sostenibilità ambientale. Ma contribuiscono anche in prima persona alla manutenzione della democrazia del Paese. Una democrazia, chiamiamola sociale, quotidiana, a supporto del sostrato della democrazia rappresentativa politica che invece si esprime unicamente nel momento del voto. Quindi una partecipazione costante alle attività delle istituzioni e quindi della politica del Paese. E poi nell'ordinarietà di attività e servizi nei campi più disparati. In buona sostanza anche qui abbiamo una partecipazione sociale nel fare, nella costruzione quotidiana di servizi, di attività, di iniziative, di progettualità che generino inclusione per le persone, che riducano le diseguaglianze, che mostrano e mettano in luce la caratteristica che spesso viene dimenticata della fraternità e al contempo in tutto questo sappiano agire sia in termini di volontariato, quindi di dono del proprio tempo, delle proprie energie e delle proprie risorse, ma anche in termini di capacità professionale evidentemente con rapporti economici completamente diversi da quelli che usualmente ci sono nel mercato del lavoro e del profit. C'è una capacità di lettura, quella che viene definita lettura profetica, delle emergenti criticità sociali, prima ancora che i dati ufficiali li riescano a restituire alla comunità, per azioni di pressione e per farle entrare nel dibattito e nell'agenda politica. C'è poi un'adattabilità delle organizzazioni, la plasticità e innovazione delle organizzazioni di terzo settore. Intendo con questo dire che non solo sono aumentate le organizzazioni no profit di circa 100.000 unità ad oggi, ma queste nascono proprio per affrontare i temi che il Paese affronta in questo frangente storico. Pensiamo a tutto quello che le organizzazioni sociali hanno saputo fare per il contrasto alla povertà in questo Paese e come si stanno proponendo, ad esempio, nell'alleanza contro la povertà nel tentativo di modificare le politiche in questa direzione. Le criticità. È chiaro, le criticità sono note, sono insite anche nei dati della ricerca. La frammentazione. Esiste una quantità notevole di organizzazioni. Esiste una capacità di fare rete, che però spesso non è sufficiente. Reti nazionali, reti che quindi si sviluppano verticalmente o anche reti territoriali che si sviluppano orizzontalmente, che agiscono sia in modo formale, quindi costituite sia in modo informale. E questa frammentazione, ripeto, è un limite ma anche un valore. La scarsa trasparenza. C'è un problema di reputazione. La reputazione per quanto riguarda il terzo settore è fondata sull'idea che per le organizzazioni, per la loro capacità, parlino i fatti, la concretezza della quotidianità, di quello che i cittadini si ritrovano a condividere con le organizzazioni del terzo settore. Quindi c'è un'assenza di capacità di comunicazione dei risultati, del proprio agire e al contempo inevitabilmente una sottovalutazione del meccanismo di trasparenza che viene usualmente richiesto. Ripeto, sottovalutazione dovuto al fatto che prima di tutto per il nostro mondo contano le cose che vengono costruite nella quotidianità. E poi c'è ancora una certa difficoltà di rappresentanza, indubbiamente, una capacità di rappresentare un mondo così eterogeneo, così frammentato, che viene ascoltato e considerato spesso per una capacità produttivistica piuttosto che per la sua capacità di mobilitazione e partecipazione. Spesso è vissuto come un possibile competitor dalle forze politiche e delle organizzazioni sindacali e talvolta per questa ragione è marginato. Ecco, il problema poi della capacità produttivistica sta nel fatto che questa viene intesa più come stampella del cattivo funzionamento delle istituzioni pubbliche e quindi implementazione di servizi al minimo costo possibile o addirittura gratuito, mettendo le pezze ai fallimenti dello Stato. Credo che questi siano gli elementi centrali, poi ovviamente ce ne sono molti altri e solo un ultimo voglio citare, cioè il tema del volontariato tra i giovani. Risulta da più parti che questo sia ormai in prevalenza agito al di fuori delle organizzazioni che usualmente organizzano i volontari in questo Paese e questo chiama inevitabilmente a responsabilità le organizzazioni e le reti nazionali e locali del volontariato, perché è evidente che è una nuova forma di partecipazione sulla quale evidentemente è necessario un'ulteriore analisi. Grazie. Grazie, credo che emerge una sintesi abbastanza chiara. Allora riprenderei da qui, cioè riprenderei dalla frammentazione con una domanda a Stefano Zamani. I dati confermano, i dati presentati oggi che il settore non prof si compone di una varietà di organizzazioni, peraltro crescente nel tempo e probabilmente anche in via di ulteriore diversificazione, anche a seguito della pressione che si sta verificando intorno a questo mondo, per ampliarne i confini, ad esempio tutta l'insistenza sull'ammettere all'interno del settore anche imprese for profit con impatto sociale misurabile si dice. Poi cosa voglia dire l'impatto sociale misurabile? È tutta una scommessa, ma c'è una insistenza soprattutto di Mattice Anglosassone in questa direzione. Quindi un settore composito che tende a scomporsi ulteriormente e che le politiche pubbliche non hanno sempre saputo gestire. Basta pensare alle politiche fiscali, che non sono ancora in grado di distinguere fra natura dell'organizzazione e tipologia di attività. Bene, lei ha fatto un'esperienza nell'Agenzia per le Onlus come suo Presidente negli ultimi anni prima della sua soppressione, peraltro fatta anche o giustificata in modo piuttosto anomalo, e quindi di questo tema di come tener conto della diversità e come gestirla se ne è occupato. Cos'è che non ha funzionato che non funziona? E comunque ritiene che occorra una politica economica attiva in questo senso? Cioè occorra ripensare questa eliminazione dell'unico soggetto in qualche modo che poteva intervenire nel cercare di modificare un po' le politiche? Grazie molte. Lasciate che anche io esprima gratitudine all'Istat per il lavoro che ci ha donato e che finalmente porrà l'Italia almeno a livello degli altri paesi europei, noi sappiamo tutti che fino a tempi recentissimi noi italiani che abbiamo il settore non profit in senso relativo più avanzato in Europa e siamo stati derisi letteralmente in sede europea perché tutte le volte che si trattava di parlare di politica di un tipo o dell'altro non avevamo la base statistica e ci prendevano in giro. L'Istat con coraggio ha colmato questa lacuna e quindi dobbiamo essergli grati. Arrivo però alla domanda del nostro moderatore, lo ringrazio, è una domanda molto provocatoria, lui l'ha fatto perché sa che questo è un tasto molto delicato e quindi vuole o si aspetta che io reagisca alla stessa maniera. Allora esordisco dicendo che la chiusura dell'agenzia è stato uno dei più grossi errori che il governo dell'epoca poteva commettere. Punto e basta. Ed è una delle ragioni per cui le cose dopo sono andate come sono andate. Allora in dei pochi minuti mi corre l'obbligo di argomentare. Primo per il significato simbolico, perché cosa ha voluto significare l'eliminazione dell'agenzia per il terzo settore? Che questo mondo variegato, questo mondo vitale di cui abbiamo sentito stamattina i dati e altro, non merita attenzioni. Ora voi sapete che l'agenzia costava al bilancio pubblico un milione all'anno, un milione all'anno. Quindi si è chiusa un'agenzia in nome dei risparmi. Ditemi voi se questa è una tesi che una persona di normale onestà intellettuale, normale intelligenza può accettare. Il punto è che si è chiusa l'agenzia per dare un segnale molto triste al mondo del terzo settore. Come dire, tu conti niente, di conseguenza io ti posso chiudere e nessuno può fiatare. Ovviamente io avevo già finito il mio mandato, che sia ben chiaro, e non potevo essere rieletto. Questo bisogna che si sappia. Quindi quello che dico non lo dico come qualcuno può immaginare perché avevi interesse. Io per legge non sarei potuto, perché un mandato solo, avevo finito il mandato, anzi ci hanno lasciato 45 giorni di proroga d'ufficio, eccetera. Quindi quello che dico è perché ho visto quello che è successo dopo, in questi due anni, eccetera. Pasticci su pasticci. E nessuno ha il coraggio e l'onestà intellettuale di dire abbiamo sbagliato. Perché tutti noi sbagliamo. Chi è che non sbaglia? Però quando si sbaglia bisogna avere il coraggio di dirlo, da una parte e dall'altra. Allora, qual è il punto? Il punto è che c'è bisogno di un'agenzia, chiamiamolo ancora così, non importa, qualcuno potrebbe dire autorità, io non faccio questioni di parole. Però abbiamo bisogno di un'agenzia, di un ente che abbia tre caratteristiche. Primo, che sia parte terza. Terza rispetto sia alla pubblica amministrazione, sia ai soggetti, agli cosiddetti enti privati o for profit, che dir si voglia. Perché tutte le volte che nascono controversie, in questi ultimi due anni ne sono nate tantissime e vedrete prossimamente quello che succederà, ecco, c'è bisogno di un ente che si ponga al di sopra per appunto mediare, risolvere. Seconda caratteristica, questa agenzia deve avere potere di ispezioni. La vecchia agenzia non le aveva. Cioè la vecchia agenzia non poteva chiamare il presidente di un ente non profite e dire portami qua il tuo statuto, fammi vedere i verbali delle assemblee, fammi vedere il bilancio per controllare. Noi per poterlo fare dovevamo scrivere alla guardia di finanza la quale ha il potere di imporre, capite, le implicazioni. Terzo, non avevamo potere di sanzionamento amministrativo. Ho detto amministrativo, non certamente penale, tantomeno punto civile. La terza caratteristica è che deve, abbiamo bisogno, date la dimensione e la crescita in questi ultimi dieci anni di questo mondo, di un soggetto che sappia dirimere le controversie che si muovono all'interno dello stesso mondo del terzo settore. Esempio, per farmi capire, raccolta fondi, la vendita delle uova, di Pasqua, delle arance, delle azalee, eccetera. Ma voi sapete quello che sta succedendo o no? Siccome la gente pensa che io sia ancora presidente, continuano a tempestarmi di telefonate, di email, eccetera. È quello che si chiama in fisica l'effetto di isteresi, cioè di trascinamento. Però questo a me serve per avere il polso della situazione. Perché accade che nella stessa città, sostanzialmente a distanza di un giorno, l'una organizzazione fa la raccolta di fondi con le uova, l'altro le fa con le azalee. E voi capite che questa è una forma di competizione, mi correggo, di concorrenza, perché concorrenza è una cosa, la competizione è altra cosa, come si dovrebbe sapere. È una forma di concorrenza che nuoce al soggetto. Perché mentre nel settore privato la concorrenza ha i suoi correttivi, direi, endogeni, nel mondo del non profit questo non c'è. E allora vogliamo ammettere, provocare la guerra tra poveri, tra un'organizzazione grande, un'altra media, piccola, eccetera. Non parliamo poi della gestione dei fondi del 5 per mille. Allora, se non c'è un'agenzia, a chi facciamo gestire i fondi del 5? Vorrei che qualcuno mi rispondesse. Se non abbiamo un'agenzia terza, che sia terza rispetto. Ecco allora in conclusione, perché devo stare ai tempi, è necessario, proprio perché il settore di cui stiamo parlando ha raggiunto livelli di tutto rispetto. Non sto a ripetere le cifre che abbiamo ascoltato tutti, poc'anzi, eccetera. Ma perché il sistema bancario alla Consob? Ma perché esiste l'antitrust, cioè l'autorità garante della concorrenza, la Gcom, eccetera. E perché il terzo settore non merita almeno un'agenzia che si interponga? E voi capite quali vantaggi anche dal punto di vista del bilancio statale. Voi avrete letto su in questi giorni, no in questi giorni, l'altra settimana, che l'ispettorato del lavoro, questo interessa, ma Bobba non c'entra, perché è stato fatto prima, ha fatto una multa, l'Auser, l'Auser è un'associazione di volontariato, una delle più grandi, di 800 mila Euro. Questi sono venuti da me disperati e direi, ma noi dove andiamo a prendere 800 mila Euro? Siamo un'associazione di volontariato? Voi direte perché? Ma per una stupidaggine relativa all'interpretazione di una norma della legge del volontariato del 91 che è ultra obsoleta. Ma allora è possibile che noi ancora oggi abbiamo una legge del volontariato di 23 anni fa, la legge sulle cooperative sociali di 23 anni fa e così via di correndo. Ecco allora perché l'esigenza di un'agenzia è improcrastinabile. Perché in casi di questo tipo non ci sarebbe stato il rapporto diretto tra ispettori del lavoro e Hauser e si sarebbe eliminata una situazione a dir poco incresciosa, perché adesso si andrà per le vie legali, i processi durano e soprattutto sono costosi, perché gli avvocati si fanno pagare, ovviamente svolgono un'attività con quanto. Tutto questo mi serve per dire che c'è troppo fariseismo, c'è troppa ipocrisia. A parole si inneggia il terzo settore, recitiamo le litanie del terzo settore, ma si fa di tutto per impedirne la crescita sia dimensionale ma soprattutto la crescita sotto il profilo espressivo. Prima ci renderemo conto di questa ipocrisia, meglio sarà per tutti. Grazie. Grazie Stefano, risposta molto chiara e anche credo con qualche punto su un ipotetico disegno dell'agenzia, a cui io per esempio aggiungerei che nel dibattito sul riconoscimento dell'impera sociale, fra chi dice ma usiamo i settori oppure usiamo la finalità, se non c'è un regulator o qualcuno che dica sì tu sei l'impera sociale, tu no, bisogna tenersi i settori perché comunque non abbiamo alternativa. Passo invece adesso più alle proposte di policy e comincio con il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, una commissione che si è caratterizzata dal punto di vista del non profit per aver dedicato attenzione in questi anni rispetto alle precedenti e anche crescente nel tempo alle varie componenti di questo settore, imprese sociali, associazioni, cooperative, in questo anche aiutata dallo stesso Parlamento che pure ha più volte intervenuto dal CES, è stato tutto un movimento a livello europeo. Questo movimento ha avuto una serie di risultati, poi citerò magari una domanda successiva quella del Social Business Initiative, qui mi fermerei, per esempio le ultime modifiche introdotte nella normativa sugli appalti, che sicuramente sono volte a favorire la partecipazione di organizzazioni anche di piccola dimensione e carattere territoriale a legare per la gestione di servizi. Ecco, anche alla luce dei risultati del censimento, qual è il suo giudizio su quanto fatto a livello europeo e quali sono state anche, perché non credo sia stato tutto un processo tranquillo. Le difficoltà incontrate, ricordo il dibattito sulla riduzione al 30% degli svantaggiati, dove gli inglesi volevano che tra gli svantaggiati rientrassero anche i dipendenti pubblici licenziati dal Governo. E cosa resta da fare? Cosa ha fatto la Commissione europea in questi anni per dare peso ad una realtà sociale ma anche imprenditoriale. Come sapete io sono responsabile nella mia vita pubblica della direzione generale impresa e nella vita privata, tra le poche cose che mi lascia il tempo della politica, faccio l'operatore volontario in una comunità di recupero di tossicodipendenti a Trevigliano in provincia di Frosinone e la comunità in dialogo. Perché ho detto vita privata e vita pubblica? Perché credo che intanto lo spirito che ci ha spinto è quello di fare politica sociale. La stella polare del nuovo trattato, quello di Lisbona, è l'economia sociale di mercato. Il mercato è uno strumento per fare politica sociale. E vi cito l'esempio che mi ha toccato e che mi ha spinto a fare anche di più in questa direzione. Nella comunità che seguo, alla fine un gruppo di ex alcolisti e ex tossicodipendenti ha dato vita ad una cooperativa che ha preso in gestione un albergo a Fiuggi. Un albergo che era abbandonato con la crisi eccetera. Oggi questo albergo è un albergo che funziona ripulito, ristrutturato dalla cooperativa dove c'erano anche ex camerieri, proprietari di ristoranti. Insomma è diventato anche un ristorante di buon livello. E ho rivisto sorridere tante persone che quando avevo conosciuto, quando erano entrate in comunità erano abbandonate su loro stesse. Erano persone che non sapevano neanche cosa significasse la parola sorriso e cosa significasse la parola fare qualche cosa di positivo. Bene, grazie a una cooperativa sociale queste persone oltre a guadagnarsi da vivere hanno ricominciato a sorridere. E questo mi pare che sia già un fatto importante. Non dimentichiamo il ruolo sociale di tutte le iniziative del no profit. Ecco perché siamo riusciti intanto nel 2011 con il lavoro di tutti quanti noi, dei commissari anche Barnier e Andor a dar vita al social business iniziative che crea un po' un quadro della situazione del no profit e per la prima volta si valorizza a livello comunitario un comparto economico straordinario perché dobbiamo anche tener conto che è uno di quei comparti economici che durante la crisi insieme al turismo ha resistito meglio di altri. Quindi ci sarà un motivo per cui questo contesto imprenditoriale ha resistito? Forse perché c'era la voglia di riscatto, forse perché c'era un impegno differente da quello del normale lavoratore, quindi c'era un coinvolgimento più affettivo. Però certamente è un settore che ha dato molto anche per la tenuta del tessuto economico. Aver dato un quadro è certamente importante. Il secondo punto è aver dato vita ad un gruppo di alto livello per la cooperazione da parte della Direzione Generale Industria che avrà i suoi risultati a giugno, li renderemo pubblici. Quarto punto, poi vengo al terzo così concludo, quarto punto è il lancio da parte della mia Direzione Generale per la consultazione all'interno della Commissione della nuova normativa per dare vita allo statuto delle mutue europee. Altre cose concrete che abbiamo fatto, le missioni per la crescita che abbiamo organizzato, che ho fatto distribuire qualche copia della politica industriale che è stata fatta in questi anni, hanno partecipato alle cooperative e il mondo del no profit ha partecipato all'attività di internazionalizzazione della Commissione europea. In quasi tutte le missioni sono venute imprese del settore no profit che ci hanno accompagnato e quindi hanno partecipato all'attività di internazionalizzazione. Altro punto importante è la possibilità come imprese di poter partecipare ai bandi del pacchetto Cosme, Cosimo dei Medici, nel Deplian c'è anche nell'indirizzo per dover andare a vedere, che è destinato alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, al venture capital e al turismo. Aggiungo al turismo perché con il nostro portavoce, lo ricordava lui poco fa, quando ero commissario dei trasporti presentammo il nuovo regolamento per garantire a tutti i passeggeri di potersi muovere liberamente, anche coloro che hanno una mobilità ridotta. Cosa c'entra con l'economia? C'entra perché per esempio il turismo può trarre beneficio da queste regole, cioè noi dobbiamo permettere a circa 140 milioni di cittadini europei che sono a mobilità ridotta, possono non soltanto essere portatori di disabilità permanente o anche temporanea, una persona che si è rotta una gamba che ha avuto un incidente, possono incrementare il turismo. Ricordavamo in quella occasione, basta vedere i dati dell'aeroporto di Lourdes, ricordavo uno dei testimonial, per vedere quanto è importante. Quindi anche il seccomparto turistico può trarre beneficio da uno sviluppo di tutto il mondo no profit e anche imprese turistiche, ricordavo l'esperienza privata, possono sempre più essere a modello no profit, più tutto quello che si deve fare per rendere di qualità, abbiamo introdotto anche un marchio di qualità europeo guardando anche ai portatori di disabilità, quindi per sviluppare tutto un comparto che a no profit guarda con attenzione. L'altra grande iniziativa è stata quella di, grande perché secondo me è quella sostanziosa che può non tanto portare un aiuto economico diretto, ma quanto permettere la partecipazione di tutto il no profit agli appalti. Abbiamo cambiato la direttiva appalti della Unione Europea e abbiamo riservato una quota degli appalti al mondo del no profit. Questo certamente è un qualche cosa che permette alle cooperative sociali di poter essere protagoniste in alcuni settori dove in passato c'erano degli ostacoli. Certo non è facile, penso per esempio al discorso sul mutuo europeo, troverò delle resistenze anche all'interno della Commissione Europea, già lo so, l'importante è avere la determinazione e cercare di fare in modo di far passare il primo ostacolo, poi vedremo in Parlamento e al Consiglio. Però io sono convinto dell'importanza sociale ma anche dell'importanza economica, insisto, l'importanza economica di questo settore che dà lavoro in Europa a milioni, milioni di cittadini, che permette a tante persone di ricostruirsi una vita e anche questo non è secondario. Quindi l'impegno che noi dobbiamo profondere deve essere forte, sapendo bene che ci sono delle resistenze, a volte anche per mancata conoscenza del reale problema. A volte il problema viene visto soltanto conosciuto a livello burocratico, il vero problema della burocrazia di Bruxelles che sta troppo chiusa nel castello del Berlemont e gira troppo poco in mezzo ai cittadini. Se si rendesse conto della concretezza e della quotidianità, a volte ci sarebbero meno resistenze. Però io sono ottimista, l'evento di Strasburgo che abbiamo dedicato con il commissario Barnier e con la partecipazione di migliaia e di migliaia di rappresentanti del mondo del no profit un paio di mesi fa ha dimostrato con la partecipazione del Presidente del Comitato Economico e Sociale, con la partecipazione del mondo europeo e con un messaggio anche del Presidente Barroso che c'è stata comunque in questi anni a Bruxelles un'inversione di tendenza. Non sono soddisfatto dei risultati ottenuti, bisogna continuare ad andare avanti, però sono convinto che la prossima Commissione potrà portare a termine tutto il lavoro che noi in questa abbiamo avviato, soprattutto con il commissario Barnier e il commissario Andor. Poi ci possono essere cose che piacciono o non piacciono. So che al Professore piace più parlare di cose concrete che di tecnicismi i bancari. Anche io sono convinto che il problema non è un problema soltanto bancario di accesso al credito o di aiuti, il problema è quello di sostenere l'economia reale. Credo che quello che interessi alle imprese del no profit sia un ritorno alla politica industriale, un ritorno alla politica delle imprese, un ritorno all'economia sociale di mercato, che è l'obiettivo che abbiamo perseguito in questi anni. Siamo riusciti ad ottenerlo perché la riunione dei capi di Stato e di Governo, il Consiglio europeo ultimo, ha approvato la politica della Commissione europea per il rinascimento industriale e quindi un ritorno all'economia reale, abbandonando questo amore un po' esagerato, sfrenato degli anni passati per finanza, servizi e banche, oggi invece è diventato un amore per ciò che di concreto si fa per il settore manifatturiero, per chi effettivamente crea occupazione e quindi anche questo cambiamento di linea politica credo che possa essere di grande aiuto per il settore del no profit. Quindi sono soddisfatto, resistenze anche per la politica industriale ci sono state, anche per l'economia reale, per fissare l'obiettivo del 20% prima della fine del 2020 proveniente dal manifatturiero, combattuto dalle battaglie epiche come se io fossi un nemico dell'ambiente, un nemico dei servizi e della finanza. Io dico soltanto che il nostro obiettivo è quello di tutelare il cittadino, al centro c'è sempre l'uomo, quindi la natura è al servizio dell'uomo, l'uomo deve poter lavorare, il lavoro è garanzia di libertà, quindi questo ci deve spingere e sono convinto che alla fine essendo un po' testardi la si spunta. L'abbiamo spuntata al 70% e dobbiamo ancora concludere e mi auguro che i miei colleghi che saranno nella prossima Commissione europea potranno terminare il lavoro intrapreso. Per quanto mi riguarda cercherò, avrò poi il consenso dei cittadini, di continuare questo stesso lavoro sui banchi del Parlamento europeo. Vi ringrazio. Grazie. Poi c'è ancora una domandina sul social business, ma quella la facciamo dopo. Invece adesso vengo alla situazione italiana, abbiamo con noi il sottosegretario al welfare e al lavoro Luigi Bobba, a cui vorrei dire che il nuovo governo ha manifestato in più occasioni sia un riconoscimento dell'importanza del settore, a differenza dei governi precedenti, devo dire che raramente lo hanno citato, ma ha anche lanciato alcune idee sulla possibilità di utilizzare meglio che in passato le sue potenzialità. L'idea del Ministro Poletti di utilizzare la cittadina stamattina, di far leva su queste organizzazioni per far qualcosa a chi beneficia di disoccupazione o comunque di sostegni pubblici. A questo punto però mi devo dire che dopo le dichiarazioni, i cantieri aperti o quelli da aprire, peraltro cantieri rimasti in sospeso da qualche anno sono diversi. E tra questi quali sono le azioni più importanti che il governo, almeno per quello che lei in questo momento è in grado di rispondere, è in grado di realizzare o di promuovere? Con quali tempi? C'è solo il discorso dell'intervento sulle 500 milioni di euro per l'impresa sociale o ci sono anche altre iniziative in corso? Grazie. Grazie innanzitutto al Presidente per questo invito e soprattutto per il lavoro fatto di ricerca, documentazione e studio. Sono veramente d'accordo con l'amico Professor Zamagni che questo rapporto ci consente di presentarci per quello che siamo, perché in molti casi mi ricordo era esattamente 16 anni fa, era 1998, allora avevo la responsabilità che ha ora adesso Pietro Barbieri e tenemmo a Padova una bella iniziativa, fu un po' il battesimo del forum del terzo settore, partecipò il primo ministro, allora Romano Prodi e ricordo che siccome si muoveva il Presidente del Consiglio, allora finalmente si mosse anche il primo, uno dei più importanti giornali italiani, il Corriere della Sera, e disse ma qua dobbiamo spiegare che cosa diavolo è questo terzo settore, cos'è il non profit, perché nessuno sa bene identificarlo, e allora visto che veniva Romano Prodi, il siglammo il patto per la solidarietà, dedicò un'intera pagina cercando di far capire con un po' di dati, quei pochi che c'erano, ma che cos'era per il grande pubblico il mondo del terzo settore. Sono passati 16 anni, è passata parecchia acqua sotto i ponti e credo che questo lavoro che vede insieme non solo più le istituzioni private e le istituzioni pubbliche, ma anche le istituzioni non profit, dice dell'attenzione meritoria con cui l'Ista documenta come cambia il nostro Paese. Direi che ci sono due sottolineature importanti rispetto alla domanda di Borzagha, la prima è che c'è un momento favorevole, sicuramente c'è un Presidente del Consiglio che ha nel suo DNA, la cultura che in qualche modo si respira in questi mondi, in questo mondo, c'è un Ministro, l'avete ascoltato stamattina in apertura, che ha dedicato tutta la sua vita, la sua attività professionale a promuovere imprese cooperative, c'è anche un modesto sottosegretario che ha nel suo curriculum qualche esperienza nel campo e direi che forse oggi c'è una finestra di opportunità che c'è oggi e che bisogna cogliere oggi. Non a caso Tajani adesso ha ricordato anche l'impulso che ci viene dall'Europa, un impulso che mai era stato così puntuale, così forte, così circostanziato, così preciso anche in diversi campi, dalla direttiva sugli appalti, alle missioni per la crescita, alle social business initiative, c'è un insieme di cose. Direi che è il momento di non buttare via questa opportunità, perché domani potrebbe non esserci più questa opportunità. Allora credo che questo appuntamento dell'Istat ci dice e ci rafforza in questa convinzione che l'opportunità è oggi, è in questo momento e possiamo coglierla. Possiamo coglierla anche con quella evidenziazione un po' provocatoria, un po' allarenzi potremmo dire, quando ha detto altro che terzo settore, questo è il primo settore. Come per dire basta con una cultura della marginalità, come questo mondo venisse dopo il primo, il secondo, il terzo, la serie A, la serie B, la serie C, come se fosse qualcosa che si aggiunge sempre magari così come residuono. E invece proprio perché svolge una doppia funzione, innanzitutto una funzione di tenuta sociale del Paese, di coesione, di capacità di costruire reti di impegno civico, sociale, volontario e insieme anche una funzione che l'Istat ha ben documentato, di carattere economico, di economia sociale, di capacità di generare opportunità di lavoro, di gestire e promuovere beni comuni, di mettere in campo utilità sociale. Proprio per questo io credo che questa realtà oggi possa essere un talento da giocare in questa prospettiva di cambiamento, di cambio di passo dell'intero Paese. E credo che questo sia esattamente l'intento del Governo nel non buttare via questa finestra di opportunità da un lato e dall'altra non solo di riconoscere ma di valorizzare, di chiamare in campo, di mettere in squadra, potremmo dire, i talenti del terzo settore perché questo percorso di rinascita e di crescita del Paese li veda attivi protagonisti. In questo senso è anche una sfida che il Governo lancia ai mondi associativi volontari di economia sociale di terzo settore, una sfida a non aspettare che qualcun altro ci dia la palla ma ad entrare subito in campo e a prendere parte a questa partita di cambiamento. In questo senso io credo che gli intenti del Governo, qualcosa appunto ha già indicato Borzaga richiamando l'espressione del Ministro di questa mattina, fondamentalmente siano concentrati attorno a quattro punti. Il primo punto lo ha detto Renzi, il Presidente del Consiglio, nell'appuntamento di Lucca del fine settimana scorso e cioè il bisogno di un riordino d'insieme, diciamo, della legislazione, io direi del nostro codice civilistico che ha a che fare con questi mondi. Due anni fa il Professor Zamagni venne a presentare una mia proposta di legge di cui sono primo firmatario che intendeva proprio riprendere un lavoro che peraltro veniva da lontano, io avevo solo aggiunto un piccolo mattone ma veniva ancora da pinza passando per Alfano, insomma quindi anche con contributi di forze diverse per dare una base civilistica moderna, un pavimento a tutta l'attività di questi mondi. Un pavimento nel senso che poi oggi spesso si costruisce su un pavimento sconnesso e alla fine poi la legislazione fiscale assorge magari a figura civilistica quando non lo è, creando tutti quegli elementi distorsivi che ben conosciamo. Dall'altro lato ci sono alcuni interventi puntuali, credo che il governo debba innanzitutto esercitare la delega che ha già nelle sue mani in un provvedimento già approvato dalle Camere all'interno della riforma del sistema fiscale che dice di rendere strutturale, quindi non sperimentale, il fondo del 5 per 1000. È evidentemente un caso di successo in Italia perché se più di due terzi dei contribuenti mettono la crocetta o scrivono un codice fiscale vuol dire che questo mondo, queste realtà, diciamo così, forse non sono così, hanno buona stampa, hanno buon credito, hanno fiducia, i cittadini italiani hanno fiducia e quindi mettere mano innanzitutto al decreto legislativo che applichi quel principio già contenuto nella delega di riforma del sistema fiscale. La seconda cosa che so che Borzaga ci ha lavorato anche lui a fondo è mettere mano al tema dell'impresa sociale. Ci abbiamo riflettuto in tanti, è un lavoro che ha portato anche alla stesura di un testo di cui sono primo firmatario alla Camera e Stefano Lepri al Senato che vede già una condivisione ampia di tanti attori che operano in questo campo e che ci consentirebbe di meglio cogliere quelle opportunità che oggi l'Unione Europea ci mette, diciamo così, un po' a disposizione. Credo che la scelta adesso che dovrà fare il Governo è di vedere come questo testo, questi testi possono diventare subito, trovare subito un percorso parlamentare che abbia, diciamo, una sua dinamica sufficientemente rapida tale da arrivare all'obiettivo, al risultato. Il terzo punto è quello di, diciamo così, lavorare a questa proposta a cui stanno lavorando anche qui in diversi di un servizio civile di tipo universale, non obbligatorio ma di tipo universale, un'opportunità di impegno civico e insieme di primo avvicinamento a qualche esperienza professionale lavorativa che potrebbe essere, soprattutto, era un'idea anche dell'ex ministro del lavoro Giovannini, un elemento di contrasto a quel grande serbatoio dei net che purtroppo riguarda molti e molti giovani italiani. Insomma, le idee ci sono e qualcosa anche più delle idee, delle proposte già anche abbastanza circostanziate. Adesso in questa partenza anche un po' affollata che il governo, come avete visto, sentito anche la litizzetta l'altra sera, ma tutte queste scadenze di Renzi ci creano un po' di ansia, insomma, come per dire adesso in questo un po' di affollamento, però c'è un intento chiaro che il Presidente del Consiglio ha espresso senza troppi giri di parole e che credo noi, il Ministro e il Ministero a cui appartengo anche io, dobbiamo mettere in campo subito. Credo ci sia anche una grande disponibilità da tanti attori, ho ricevuto moltissimi segnali, diciamo, in questo primo mese e dunque vorrei appunto che questa finestra di opportunità diventi una possibilità di fare gol, di fare risultato. Grazie, il tempo stringe, ma Luigi Bob ha già risposto anche alla mia seconda domanda, che era quella sul disegno di legge sull'imperia sociale, non possiamo entrare più di tanto nel merito, quindi ne farei subito un'altra molto veloce, pregherei poi fare un altro giro di stare un po' più sintetici, che era la seguente, ma visto che c'è sostanzialmente accordo sul disegno di legge, quale sarà l'iter? Perché diciamo che un iter troppo lento potrebbe in qualche modo rallentare anche la capacità poi di cogliere l'opportunità. Oggi stiamo vedendo la nascita di imprese sociali non di tipo cooperativo che si stanno facendo carico di attività complesse, per questo occorre forse sbloccare velocemente il processo, non si potrebbe passare per un provvedimento che non abbia tutte le trafile, un decreto o qualcosa del genere sulle legge sull'imperia sociale? Un decreto come il Presidente della Repubblica anche recentemente ha messo dei paletti molto stretti sui motivi di necessità e di urgenza che motivano appunto un decreto, quindi non so se quella strada sia praticabile, ma se c'è una volontà politica forte da parte del governo, è una convergenza da parte delle principali forze politiche che lo sostengono e non solo attorno a un diseo di legge, credo che i tempi possono essere anche sufficientemente rapidi, sufficientemente veloci. Quindi adesso si tratta, diciamo così, di fare una scelta che ancora non è stata fatta da parte del governo, se assumere sostanzialmente questi testi e farne un vero e proprio diseo di legge governativo, oppure se trovare un'intesa con uno dei due rami della Camera perché il diseo di legge sia rapidamente calendarizzato, messo in discussione, in commissione e abbia un iter, diciamo una corsia preferenziale. Adesso si tratta di vedere quale strada intraprendere. Nel merito io credo che insieme al diseo di legge c'è anche la famosa slide 31 del Presidente Renzi della conferenza stampa, slide che ha diciamo suscitato anche qui molte aspettative perché è quella intitolata il fondo per non toccare il fondo e cioè un fondo strategico per la nascita di imprese sociali. Anche qui ci stiamo lavorando per dare una forma e un itinerario concreto in tempi sufficientemente rapidi, prima dell'estate, perché questo fondo prenda forma, avvalendosi anche di risorse europee, non solo di risorse europee ma anche mobilitando, vorrei dire così, un ecosistema di risorse da finalizzare alla nascita di imprese sociali. Mi ha colpito che domenica sono venuti a trovarmi due giovani, io sono vercellese, due giovani vercellesi che lavorano nel campo della finanza a Londra e hanno un fondo che gestisce, che investe in imprese sociali, tutte in paesi del sud del mondo e che avendo visto la slide 31, avendo visto il testo di questo diseo di legge hanno detto ma forse possiamo fare qualcosa anche in Italia attorno a questo tema, mutuando anche in parte senza esserne subalterni l'esperienza inglese, perché lì hanno fatto un bel modellino, sono bravissimi nel marketing, l'hanno venduto bene ma forse magari in Italia facciamo di più e magari lo vendiamo meno bene. Quindi io credo che anche questa scelta sia essenziale. Terzo ed ultimo, penso che l'insieme di questi provvedimenti possa mobilitare un complesso di energie per far sì che il soggetto imprese sociale possa diventare un soggetto rilevante, qualificante nella gestione, nella produzione di servizi e di beni comuni. C'è oggi una domanda, una fame di questi beni, una domanda insoddisfatta e credo che mettere in campo una capacità di offerta di questi beni che hanno insieme una capacità di generare utilità sociale e anche una capacità di avere sostenibilità economica, perché in fondo la qualità di queste imprese è creare partecipazione anche tra i produttori, tra coloro che mettono in campo i loro talenti e le loro risorse. Secondo, avere a che fare con i servizi e i prodotti che hanno come valore aggiunto il bene comune e in terzo luogo la sostenibilità economica, non possono diventare certo imprese assistenziali. Dunque penso che ci siano tutte le condizioni anche qui per partire con un piede veloce, anche se sufficientemente sicuro per arrivare alla meta. Chiudo dicendo una cosa che mi ha colpito, che la mia figlia, mia prima figlia che lavora per un'agenzia delle Nazioni Unite in Mozambico, come augurio per il nuovo incarico che mi era stato affidato, mi ha mandato una frase di Francesco D'Assisi, che ho visto che l'agenzia che cura la campagna elettorale del Partito Democratico ha messo in uno dei nuovi video della campagna, ma al di là di questa annotazione, mi sembra che questa frase dica bene lo spirito del tempo e anche delle responsabilità che ci sono affidate. Dice Francesco D'Assisi cominciate con il fare ciò che è necessario, poi con ciò che è possibile e immediatamente vi ritroverete a fare l'impossibile. Spero che sia un augurio che valga per tutti. Sì, appunto, forse quando si parla di misure di sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità sociale ma del non-profit in generale, forse sarebbe il caso di ricordare, come accennava prima Luigi Bobba, che l'Italia ha avviato la prima iniziativa di sostegno del Fondo Fertilità quando vennero lanciate le cooperative sociali, che tra l'altro è stata una delle poche iniziative di politica economica in Italia, che ha avuto successo e è stata anche valutata da una società indipendente nei risultati. Documento scomparso, non si sa bene dove, ma comunque non dobbiamo mica sempre imparare dall'inglese. Una domanda a Stefano Reppri, a Stefano Zamagni, l'Apsus indotto dal disegno di legge sull'impresa sociale. Stefano, nel dibattito recente sono sempre più coloro che, lo accennava anche prima Bobba, che sostengono che il settore non-profit italiano e più nello specifico il sistema delle imprese sociali sarebbe poco imprenditivo e avrebbe bisogno di finanza per diventare imprenditivo. Qualcuno l'ha anche detto recentemente, l'ha anche scritto, che il ruolo della finanza dovrebbe essere quello di imprenditorializzare il settore. I dati di recensimento ci restituiscono un'immagine un po' diversa di un settore anche solido, con margini positivi nella maggior parte delle organizzazioni, specialmente quelle di medio-grande dimensione. Tu che conosci bene il settore e che sei anche un economista, sei convinto che c'è questo bisogno di finanza e poi sei convinto che l'Italia sia davvero il fanarino di coda in Europa, visto che ha promosso in questi anni tutta una serie di iniziative di finanziamento del terzo settore? Dobbiamo aspettare i fondi di social impact inglese oppure abbiamo già una serie di esperienze in questo campo? Grazie. Cinque minuti però. Sì. Direi che il paradosso che Carlo Borzaga ha messo in evidenza è reale. Paradosso vuol dire sorpresa, vuol dire meraviglia in greco. E cioè che non c'è proporzione tra quella capacità che abbiamo noi in Italia di inventare e quella di tradurre l'invenzione in atto. Da cosa dipende questo? Dipende dal fatto che noi tendiamo a confondere il concetto di invenzione con quello di innovazione. Ma sono due cose diverse. Noi italiani siamo i primi al mondo, in rapporto alla popolazione, come capacità di invenzione. Siamo i più creativi, in assoluto. Questi sono alcuni dati che ho disunto da una recente indagine a livello di Nazioni Unite. Però non siamo altrettanto bravi nella innovazione. Proviamo a capire perché. Perché per innovare bisogna rispondere alla domanda. Questo che è stato inventato è sostenibile? Sostenibile dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico, ambientale, a seconda dei casi. E questo evidentemente dipende sostanzialmente... E allora la domanda diventa come bisogna fare per aumentare la nostra capacità di innovare, posto che a livello della invenzione non siamo secondi a nessuno. Tre condizioni. Primo, bisogna agire sulla cultura. Cioè bisogna combattere la cultura del sospetto. Noi siamo avviliti, noi italiani, da questa cultura. Quando all'epoca del decreto legislativo sulle onlus, io mi sono veramente... ho imparato molto, ma ero distrutto. Per due anni e mezzo le domande erano ma se dopo quell'associazione di volontariato un volontario si compra un gelato, come facciamo? Perché c'è il sospetto che voglio utilizzare la, evidentemente, la non fiscalizzazione, eccetera, e così via. Due anni e mezzo solo su questo. Ora noi dobbiamo smetterla con alimentare la cultura del sospetto. I controlli ci devono essere. Se uno sbaglia, ma devono essere ex post, non ex ante. Perché se tu le fai ex ante vuol dire che non hai fiducia. Ma scusa, il terzo settore è il primo produttore di fiducia, e voi sapete che fiducia dal latino fides vuol dire corda. Il terzo settore è il primo cordaio, il primo generatore di corde, e allora vogliamo non affidarci di quello? Ah, dice perché ci sarà qualcuno. Va bene, se ci sarà qualcuno penalizzeremo quel qualcuno. Vuoi imporre costi, vincoli su tutti gli altri? Ecco allora il primo. Secondo, bisogna capire che per innovare si correrò rischi. Mentre l'invenzione non postula rischio, l'inventore o inventa o non inventa, ma non rischia. L'innovatore rischia, perché non tutte le innovazioni vanno a finire bene. Allora, dentro il terzo settore bisogna trovare delle forme ad hoc di copertura del rischio. Il settore for profit ha inventato storicamente l'assicurazione. Le assicurazioni sono nate a Venezia, un po' di secoli fa, serenissima, e sappiamo perché. Perché evidentemente allora, così come a Venezia nacquero i primi derivati, la gente non sa, pensano che i derivati siano stati inventati in America, eccetera. No, sono stati inventati a Venezia quando bisognava trovare forme di copertura assicurativa, quando le navi trasportavano le spese dall'India, eccetera. Ecco, noi dobbiamo trovare questa forma più che il finanziamento, come dice Borzaghe. Perché alcuni soggetti, quando innovano, quando si innova non si può sapere all'inizio come si andrà a finire. E allora non possiamo chiedere a chi opera dentro le imprese sociali, le cooperative sociali, le APS, eccetera, di farsi carico anche di tutti i rischi. È questo che scoraggia. Perché ma mai è possibile che il mondo for profit ha inventato la società responsabilità limitata, ognuno è responsabile limitatamente all'apporto e nel settore non profito uno è responsabile di tutto. E dopo per forza che non si innova. Per questa ragione, all'estero non è così. Terzo, bisogna ad un certo punto favorire quel fenomeno che l'indagine è stata messa in evidenza di ibridazione, profit non profit. Però, basta dirlo, bisogna soddisfare due condizioni. Primo, bisogna insegnare, o insistere, o usare la moral suezio nei confronti del for profit, che devono smettere, devono avere il coraggio, le imprese almeno i più illuminati, di applicare la responsabilità civile dell'impresa. La responsabilità sociale non basta. Noi siamo rimasti indietro, bisogna andare avanti, no? Ci vuole la responsabilità civile. E al mondo del non profit bisogna aiutarli a superare la sindrome delle basse aspettative. Perché è la sindrome delle basse aspettative che impedisce a chi opera all'interno del mondo non profit e genera una sorta di sudditanza complessa o di inferiorità quando si trova a dialogare al tavolo con i rappresentanti del mondo for profit. Queste tre condizioni, secondo me, sono fattibili. Suggerirei in chiusura all'Istat, per il prossimo censimento, di anche misurare due indicatori. Primo, qual è l'investimento che in questo Paese, in alta cultura, viene dedicato al mondo del non profit? Sarebbe bello. Andiamo a vedere quanti corsi di laurea ci sono, quanti master, non c'è ancora un dottorato, ad esempio, specificamente su questo. Ci sono dottorati di settore, ma non sul terzo settore in quanto tale. E dico questo per indicare soltanto una forma espressiva. Oppure andiamo a calcolare qual è lo spazio che i media, cartacei e televisivi dedicano alle vicende del terzo settore. Questo sarebbe un'altra operazione di verità molto importante. Perché è mai possibile che il mondo for profit abbia proprio a disposizione il marketing, anzi adesso il marketing è già finito, lo sapete, è superato dal society. Il society è l'ultimo, spiaggia del marketing. E loro fanno bene, perché io sono contento che lo faccia. Ma perché il mondo del non profit non deve avere dei suoi canali di informazione? Diceva bene prima Bobba con riferimento all'episodio che ci ha raccontato. Chiudo, visto che lui ha citato, voglio chiudere anche io, mi ha fatto venire in mente la sua citazione. Alla fine del 500 Shakespeare, nell'Amleto, scrive, fa dire a Amleto questo. Dobbiamo, viviamo in tempi talmente bolsi nei quali la virtù deve chiedere perdono al vizio. E aggiunge, sì, la virtù per manifestarsi deve strisciare e chiedere perdono al vizio. Se voi fate caso oggi ci troviamo mutatis mutandis nella stessa situazione. Chi opera all'interno del terzo settore deve chiedere scusa, deve chiedere perdono al vizio. Vizio inteso in questo caso. Io trovo questo che è una delle manifestazioni più alte di inciviltà che il nostro Paese onestamente non si merita. Quindi tutti noi, ai diversi livelli di responsabilità, dobbiamo fare. Non è tollerabile che la virtù, che noi sappiamo essere più contagiosa del vizio, debba essere tenuta nel sottoscala perché qualcuno teme che appunto il contagio possa modificare certi equilibri di potere di un tipo o dell'altro. Grazie. Grazie Stefano. Rubiamo qualche minuto al lunch. Io vorrevo fare una domanda secca ancora al vicepresidente Tajani. L'iniziativa social business che è molto importante non solo per l'impresa sociale ma perché ha messo in moto tutta un'attenzione, come tu ricordavi prima, verso questo mondo delle organizzazioni non a scopo di lucro a livello europeo, pensiamo all'impatto sull'Horizon 2020, all'impatto sui fondi sociali europei e via dicendo. Però questa è l'iniziativa della Commissione che tu vicepresiedi. La nuova Commissione la prenderà ancora in considerazione? Ci sono dei paletti che voi avete messo che costringeranno comunque la nuova Commissione? C'è l'impegno di qualcuno a mantenere questa direzione? L'impegno è nei fatti perché ormai noi abbiamo impostato un lavoro che deve essere implementato, un po' come è stato con lo Small Business Act, cioè tutta la politica a favore delle piccole e medie imprese che era partita dalla Commissione precedente e l'attuale continuata. Sulla Social Business Initiative noi abbiamo dato vita ad una serie di cose concrete, abbiamo parlato dell'accesso al credito, della visibilità delle imprese sociali, sul quadro giuridico, ma te pensa un tema particolarmente importante per la competitività industriale o impresariale delle imprese sociali. Cosa abbiamo fatto? Io, proprio perché l'innovazione anche per questo tipo di imprese è fondamentale, per competere, abbiamo pensato che innovare non è soltanto dare fondi o dire come bisogna innovare, siamo convinti che invece sia utile scambiarsi le migliori pratiche tra le imprese che innovano. Ecco perché nel 2011 ho dato vita a una piattaforma per l'innovazione sociale in Europa allo scopo di mettere in rete gli innovatori sociali attrezzandoli al meglio per sviluppare progetti comuni. L'anno successivo ho lanciato anche un concorso europeo per l'innovazione sociale che si è concentrato sul problema dell'occupazione. Bene, vi do soltanto alcuni dati. Al primo concorso, la piattaforma conta 5.000 partecipanti e il concorso riceve candidature crescenti. Alla fine 2013, 1.200 imprese sociali sono presentate per partecipare a questo concorso che serve soltanto a spingere verso l'innovazione. Questo è uno dei punti importanti e fra i punti importanti legati anche all'innovazione dell'imprenditoria sociale c'è un esperimento che a mio giudizio ha funzionato molto bene in Francia. Cioè quello del modello cooperativo come strumento nel caso di chiusura di imprese o di conversione di imprese. In Francia tra il 2000 e il 2009 329 imprese in difficoltà sono state convertite in cooperative. Oggi 250 di queste imprese sono ancora attive. Certo non bisogna sbagliare passi, non possiamo pensare che in tutti i casi di ristrutturazione si possa pensare alle cooperative. Però per alcuni casi può essere utile. Mi è capitato l'altro giorno di avviare a conclusione una trattativa per impedire la chiusura di una fabbrica nelle Asturie che era nelle maniche di proprietà di una multinazionale che opera anche in Italia. Bene, alla fine della trattativa per salvare i posti di lavoro abbiamo trovato un accordo, il mio capo di gabinetto lo sta proponendo ai sindacati, al presidente della regione delle Asturie, perché i lavoratori in esubero potressero creare una cooperativa ed entrare a partecipare alla quota sociale, avendo una quota sociale direttamente come lavoratori. Questa è stata una soluzione che è stata accettata con un decalage di due anni da parte di questa impresa, la Tenneco, non c'è nessun segreto perché l'abbiamo reso pubblico e questo ci ha permesso di annunciare ai lavoratori che erano disperati, perché per all'inizio si doveva addirittura chiudere la fabbrica di Gijon nelle Asturie, oggi grazie a questo accordo che abbiamo trovato, molto probabilmente costruendo una cooperativa, molti di quei lavoratori e molte di quelle famiglie passeranno una Pasqua più serena. E quindi abbiamo dato anche attraverso l'ipotesi della cooperativa un messaggio di speranza, che ritorniamo sempre al discorso iniziale. Al centro c'è l'uomo, c'è la persona e se noi siamo capaci di dare alla persona anche la possibilità di essere un po' più libera perché un po' della sua dignità è salvata grazie al lavoro, io credo che avremmo compiuto già un passo importante, fatto non l'impossibile ma almeno il necessario, come diceva San Francesco e non come dicono i manifesti. Grazie. Ancora una domanda, poi abbiamo finito, a Barbieri, così chiudiamo il ciclo. Barbieri come sapete è anche Presidente del Forum per il Terzo Settore, l'ho già detto prima. Portavoce. Portavoce, chiedo ancora, portavoce. Di fronte a questa complessità che grattizza il settore, con una serie di rappresentanze anche alcune settoriali, spesso che portano avanti anche istanze che non necessariamente non toccano poi anche le altre organizzazioni. Il Forum come si pone? Cioè il suo modello di rappresentanza funziona ancora rispetto a questo mondo? Dovrebbe essere aggiornato per migliorare la sua funzione? E' chiaro che il modo con cui si cerca di costruire la rappresentanza in questo Paese è frammentata in tanti altri settori, a partire dal lavoro all'impresa, il mondo sindacale dei lavoratori è particolarmente parcializzato anche al proprio interno, così è la parte delle imprese, tra Confindustria, grandi aziende eccetera. Me la potrei cavare così, però cercherò di dare qualche altra idea. La prima questione è che questa rappresentanza, come testimoniato da molte persone anche in quest'Aula, anche sottosegretario, ha generato classe dirigente. Quindi la capacità di costruire sintesi in un mondo così complicato ha oggi una forte rappresentanza. La seconda, che è quella molto più attuale. Si dice che una delle criticità maggiori nella rappresentanza del terzo settore, che le piccole organizzazioni non siano rappresentate, la frammentazione non viene vissuta come tale. Bene, io proprio provengo da uno di quei mondi, da uno di quei mondi. Non è una delle grandi organizzazioni verticali del Paese con milioni di iscritti. Il mondo da cui io provengo è esattamente un altro e se c'è stata una scelta, una scelta che è stata fatta nell'assemblea del forum è esattamente nella direzione di riuscire ad essere rappresentativo di tutto l'universo del terzo settore attraverso una scelta di questa natura. Ma aggiungo, perché il problema della rappresentanza è per far cose. Perché se si tratta evidentemente di tutelare semplicemente gli interessi attraverso il quadro regolativo che è di straordinaria valenza e noi accettiamo la sfida, ci stiamo già muovendo in questo settore, anche se abbiamo timori su alcune questioni che riguardano il low profit, che potrebbe snaturare. Però detto questo, la sfida l'accettiamo, ci stiamo, lavoreremo in questa direzione. Ma il punto nodale è capire qual è la funzione del terzo settore dell'impegno civico dei cittadini rispetto al Paese. E quindi quali sono quelle politiche industriali che questo Paese deve mettere in piedi per riuscire a intercettare l'impegno civico dei cittadini. Noi siamo su questo fronte, cioè siamo su fronte ovviamente della rappresentanza per tutte le attività regolative, ma soprattutto per fare in modo che le politiche che vengono messe in campo a tutela dei beni comuni, dei servizi eccetera, ci siano. Siamo preoccupati per la povertà, ma siamo preoccupati anche per come crolla Pompei o quello che succede all'Ilva di Tarato. Siamo preoccupati di tutte queste robe. E noi vogliamo stare al centro di queste dinamiche ed è evidente che questa attiene non solo alla fase regolativa, ma alla capacità di un governo di saper dare un piano complessivo della possibilità di iniziativa del terzo settore in tutti questi ambiti. Sintetico... Credo che questa... Grazie Paolo. Mi ho messo molta carne al fuoco. Credo che questa ultima idea di una politica industriale per il terzo settore non sarebbe... È molto bella, è stata già portata anche in altre occasioni rispetto a singole componenti. Credo che sia interessante anche ragionarci dal punto di vista del settore nel suo complesso. Io ringrazio i quattro che hanno partecipato alla Tavola dell'Otonda, non l'ho fatto all'inizio, mi riservavo di farlo alla fine, perché così possiamo ringraziarli non solo di essere venuti, ma anche di aver messo notevole impegno nelle risposte, sia nello stare nei tempi un po' sforati, ma sempre meno di quello che era previsto nel programma, ma soprattutto per i contenuti che ci hanno portato. Grazie a tutti.